e di prenderlo per la prima volta è composto, la premessa e la postfazione che contiene dati un po' più rivolte all'attualità non dico spicce insomma, però quotidiane con riferimento a queste parti, chiedo a Franco a otto mesi dalla pubblicazione c'è qualcosa che vorresti rivedere o rimpostare o qualche considerazione che pensi di dover riorientare questo ci sto pensando perché stavamo discutendo ci stavamo discutendo prima con l'editore se fare una seconda edizione e dobbiamo trovare l'idea di marketing per piazzare il libro perché ovviamente lo scopo principale è vendere il libro mica non mettersi a discutere di altro però tornando su questo questo era l'editore però è evidente il fatto di dire che un pamflet non era un escamotage solo per non prendere i voti dagli storici all'università o in altri luoghi era proprio, il pamflet è legato all'attualità quindi no, non cambierei niente ho scritto quelle cose in quel momento e le riscriverei adesso siamo in una situazione oggettivamente diversa tra c'è d'altro quando ho scritto questo libro nessuno, nonostante Giuliano l'avevo detto però deve aver detto veramente a bassa voce era scontato che stessimo lavorando per il secondo mandato di Giuliano stesso quindi una serie di problemi che si sono aperti il 12 di marzo di quest'anno lì non ce l'avevamo neanche in nota quindi è inutile tentare di stortare il legno se è nato storto è nato storto è cambiata la prospettiva e quindi riscriverò altri due capitoli nella nuova edizione però quello che mi resta vero poi non dico altro perché se no non comprate il libro non è un giallo dicevo però la storia come diceva il presidente Mao il futuro è radioso ma l'avvenire il cammino è a zig zag quindi è chiaro che non tutto è lì di solito e lo dico anche quello che funziona sono le razionalizzazioni a posteriori si vede si ritrova il filo della storia quando questa si è realizzata in particolare voglio dire una cosa su